se ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca ok ci siamo con un nuovissimo gioco me l'avevate chiesto in tanti ho fatto persino un sondaggio ed ora ci siamo per giocare a questo bellissimo gioco che adesso scoprirete che cosa è bandai nan qualcosa vi fa capire ma già lo vedete dalla grafica che ho e giù di qua ho messo il logo perciò l'avete già capito però è un gran ritorno guardate chi è di preciso già qua si capisce dai ragazzi chi lo capisce subito scrivetelo vediamo vediamo o c'è qualcuno che conosco pacman persino gli occhi del cane sono stile pacman allora saltiamo il video perché se no è lungo dopo il video nostro e in sotto lo vedete pacman come non si può non capire che era pacman allora condizioni d'uso ah devo vedere tutto condizione d'uso accetto c'è anche l'italiano che bello che bello c'è anche l'italiano questa non vi viene in mente niente ragazzi è il gioco che c'era sul gameboy advance sentiamo che questo penso che ci faccia iniziare spero che ci faccia iniziare perché se no dopo diventa troppo lungo sì e me lo ricordo ed è ritornato normale anche con le musica originali ah wow questo è bella una moneta pacmanosa una moneta pacmanosa oh oh niente niente me lo ricordo tantissimo ragazzi era un gioco che c'erano delle ore che giocavo ore ore a giocare a questo gioco qua ora e ora ci mettevo è per quello che questo gioco ve l'ho portato tantissimo e è della mia infanzia questo gioco più ce n'erano altri come crash spider e super mario anche questi sono ritornati come non ricordarseli e questo gioco e questo gioco è valutato tantissimo adesso devi prendere bene me lo ricordo questi rimanevo delle ore anche qua sopra wow quanto vai ok check out perciò siamo arrivati fino a qua no questi non si possono rompere ah devo prendere per forza quello la no allora li leggiamo bene ottieni la pacman hai raggiunto un checkpoint se commenti errori ripartirai da qua ok per provato a usare la ok mi ricordavo che forza me lo ricordavo che faceva qualcosa del genere ok a Ah, c'è questo! Ok Lei cosa fa? Non lo so Qua l'hanno già schiacciato Finiamo almeno questo livello Poi ci salutiamo Oh, se non sta su... Ok 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 Ok